buongiorno buongiorno oggi location particolare è il 28 di agosto ci svegliamo in questa stanza di albergo molto carina siamo al al mercur hotel di Düsseldorf perché oggi andiamo a visitare la fiera il caravan salon 2021 vediamo quali novità ci aspettano andiamo siamo dentro siamo a Düsseldorf passati i controlli covid test alla mano e biglietto alla mano tutto digitale ovviamente non sprechiamo carta e adesso siamo dentro io direi che possiamo incominciare direttamente da quella tenda sopra il tetto dai camper van ecco qua cominciamo subito con la roba che ci interessa ok questo è il prodotto e il prodotto per cui siamo venuti questo è un allestitore tedesco e questo è il mezzo montato su Ford Ranger c'è solo un problema il prezzo non lo sappiamo vediamo 110 mila euro però ma con la macchina nuova ok questo è l'interno del burro che è bellissimo che abbiamo visto su è veramente bello è veramente bello questo è il bagno con il lavello che trasla con il lavello che trasla yes ok 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 questo è il lavello questi mezzi hanno una qualità costruttiva no problem ok e qui e qui e qui da terra 8 litri sì Si è lunga per fare il letto. Da qui c'è il passaggio tramite il tettuccio e per quello che lo possono omologare camper. Questo è cabina singola. Cabina singola costa un po' meno. La particolarità del passaggio tra la cellula e la cabina, c'è il soffietto. Dei gavoni grandissimi, passanti. 5 molle, ammortizzatori, balestre per l'uso gravoso. Allora Mr. Buro ci spiegava che il pickup potete fornirlo voi. Possono procurarlo loro, danno un aiuto per cercare il mezzo ideale. Potete comprarlo nuovo e stanno cercando di ottenere l'omologazione europea. La cellula ve la monta su qualsiasi Ford Ranger di qualsiasi anno che sia extra cab o single cab. Ovviamente sappiate che non è scarrabile, non rientra tra le cellule scarrabili, quindi anche perché ha il passaggio tra la cellula e la cabina. Una volta montato viene omologato camper. Sempre restando su 4x4, Megamobile presenta un MAN 4x4. allargato per poter dormire in orizzontale. Gli interni sono molto curati, un solo fornello Dometic, clavello molto piccolo, frigo, questo è il bagno, il prezzo per questa versione. L'altro produttore che modifica Volkswagen, Terracamper. Ecco qua, questo vi dà l'idea, questo ve lo danno già sporco. Lo comprate già così. Questo il fango è compreso. Vedete? Molto molto essenziale. Immobilio essenziale, curato, tetto a soffietto, cambio automatico, pianta. Un altro produttore, Globe Traveler. Peugeot, modificato d'Angel, quindi 4x4. Questa configurazione qua sono questi. Questa è una pianta un po' diversa, allora intanto abbiamo un sacco di armadi, veramente tanto spazio. Armadiatura, armadiatura anche sopra la cappelliera. La cabina è la classica Ducato, Peugeot, Citroën. Il frigo non so dove sia. Il frigo. Doppia apertura. Ah sì sì sì. Doppia apertura. Mettino un po' piccolo a questo punto perché è un po' risicato. Sì, e il bagno è particolare, una pianta particolare questa. Bagno, ok. Con la doccia. La posta. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Roadventure. Su Mercedes Sprinter. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Sì, ok. Roadventure. Su Mercedes Sprinter. Ecco, questo è l'interno. Questo qua sono 140 mila euro. Invece, crafter. Hoppla. Sempre Phantom, sempre col bagno passante. Sempre stessa configurazione. Direi un po' stretto. Anche questo è sempre qua. Se poi siete minimalisti, vi accontentate. Al Fincan Limited Edition. Montato su Citroen. Berlingo. 4x4. Danger. Ecco. Questo è poco più di una macchina, però avete il vostro fornello. Il vostro lavello. Il letto. Cambio automatico. Per chi ama dormire in macchina. Piccolo frigo. Un buon oblo. Gli impianti. Questo è per veri minimalisti, eh. meccanica Ford Transit. Sedili girevoli. Beh, noi avevamo visto di questo genere il Fortivan. L'avevamo visto in Italia, eravamo già andati a vederlo. più o meno il prezzo era molto simile. Sì, c'è questo problema qua. Il bagno è veramente molto piccolo. Con la doccia comunque separata. Doccia separata. Così. Non so come. Ah, così. Doccia separata. Così. Questa è la doccia. E questo è il lavello che scende. Oblò. Fondamentale. Luce. Che non funziona. Ok. Questo è il lavandino. Ok. Vabbè, questo è un portobottiglia. Il problema è questo. Che è. Il bed. Qui c'è il porta abiti. Questa è la particolarità di questo mezzo. Sì, sì, sì. Il porta abiti. Si può togliere il pannello in modo da far scendere gli abiti lunghi. Sì. Armadiature. Ah, vabbè. Non capientissime. Qualcosina. Non capientissime. Qualcosina. Non capientissime. Qui. Ok. Ok. Per questa cifra qui bisogna aggiungere per questo allestimento qui il Xtreme Concept per avere 100 mm di rialzo delle sospensioni, le ruote, i cerchi, la ruota di scorta sottopianale, la piastra di alluminio paramotore e blocco del differenziale. Bisogna aggiungere circa 15-18 mila euro. Sì, 15-6 mila euro. Per cui superiamo gli 80 mila per averlo così. Sempre 4x4. Sempre cabina Ford. Ok. Bagno al contrario dell'altro. Però questa non ha. Non ha l'oblò. Non ha la dinette. No, non ha la dinette. Non ha la dinette. Non ha la dinette. E dove si mangia se non hai la dinette? Non basta. Perché c'è il tavolo qua, guarda, quel tavolo, il tavolo, quello lì, viene montato qua. Viene montato qua. Viene montato qua per così. Quello è il tavolo che si può agganciare anche fuori. E l'agganciarai qua. E si aggancia qua. E viene, e si mangia tutti dalla stessa parte. Sì, hanno sfruttato un pelo di più lo spazio per i letti. A discapito della dinette. Vediamo questo. Sempre un 5,60. Altra colorazione. Nero. E un altro allestimento. Sempre Carman Mobile. Un'altra pianta. Sì, ma facciamo. Sempre con la cucina. Sì, ma facciamo. Ok. Doccia separata. Bagno. Frigo. Frigo importante. Sì. E il letto. Questo sempre. Sì, non è, non sono grandissimi eh. No, non sono. L'altro. Questo quando vai avanti. Questa roba qua. Eh. Immaginate di fare fuoristrada con questo. Per quanto fuoristrada si possa fare con un mezzo del genere. Un altro produttore di van 4x4. La strada. Oltre agli altri fa il Regent S. Montato ovviamente su Mercedes Sprinter. Mercedes Sprinter 319 CDI 4x4. Ingancio. Cuote di scorta. Ok. La strada Regent S. 6 metri. Ok. 114.500 euro. In questa versione. In questa versione. Non ce la faremo mai. Meccanica Mercedes Sprinter spettacolare. Doppio fornello. Ravello. Il frigo qua? In testa? No. No. No? E là il frigo. Ah. Il frigo è piccolo. Si poi alla fine non è che sono grandissimi eh. Cioè di fuori sono. Vediamo un po' di problema sul letto. Perché il letto è. Vedi il letto è. Certo. Si di fuori sono grandi. Una volta dentro. Sono quasi tutti dei bagni. Si. Si devo dire che sui bagni. Si devo dire che sui bagni. Questo ha la doccia integrata. Ci hanno pensato. Ok. Sono migliorati tanto. Questo si apre così. E qui c'è una un'altra tenda che viene fuori. Forse serve solo a chiudere. È notturna. Ma. Forse separa la zona giorno dalla zona notte. Forse separa la zona giorno dalla zona notte. Niente di più. Perché questa non è una tenda. No. Niente di più. Confermo. Perché il bagno. La tenda del bagno è qua. Si. Ora questo è un altro produttore. Ma. Cg. Quattro per quattro. Sono solo il nostro sistema. Praticamente. Noi abbiamo queste clip. Si. Che vengono a 14 anni all'interno. E girandole. Si bloccano. Si. E possono sorreggere fino a 150 kg ognuna. Tutto quello che le vede all'interno dell'autovettura. È sorretto con questo. È sorretto con questo. Restano omologati autocarro N1. Quindi è un allestimento fisso. È un allestimento fisso. Sì. Ah ok. Quindi in Italia potrebbe avere qualche problema. Perché. Poi l'omologazione viene fatta in Germania. Dicendo da dove il cliente è vivo. Ci adeguiamo alle esigenze dei clienti. Che in Italia l'omologazione è un po' difficile. Sì. Sì. Molto difficile. Particolari. Esatto. Sono molto interessanti. Particolari. Molto interessante. E nell'ordine più o meno di idee. Un allestimento del genere. Dai 70.000 euro. Dai 70.000 euro. Mi vende anche l'auto. Sì. Sì. Certo. Questo è un Mantige. Cambio automatico tra l'altro. Voi ovviamente siete in Germania. Noi siamo in Austria. A Salisburgo. Ah in Austria. A Salisburgo. Questa è l'azienda. Un po' diverso. E poi puoi farlo come vuoi. Come vuoi. Tutto spostabile. Si può organizzare totalmente l'esigenza. E non c'è limite di età del mezzo. Nel senso o devono essere mezzi recenti. Assolutamente. Qualsiasi mezzo. Ok. Interessante. Tra l'altro ci teniamo a lavorare con il legno. Perché al giorno d'oggi. È una proposta molto interessante. Al giorno d'oggi molte aziende lavorano solamente con il plastico. Comunque derivanti alla plastica. Quindi anche le strutture sono tutte tenute con le clip. Tutto. Per cui volendo io questo qui potrei spostarlo e metterlo là. O no. Sì. Volendo sì. È un lavoro. Vabbè. Certo. Posso immaginarlo. Sì sì sì. Ford. Ranger. Con cellula. Tischer. Questa a differenza della Burov è appoggiata sul cassone. È scarrabile. Ok. Questa è una scarrabile. Che è anche veramente molto bella. È molto spaziosa anche questa eh. È molto spaziosa. Ah. Mobiletti. È molto 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 spaziosa questa eh. Frigo. Questa è una ticca. Sì. Truma combi. Armadio. Bagno con doccia separata. Sì. No. Con doccia non separata. No. Non separata. Il lavello che si alza. Sì. è un oblo nel bagno qui. Armadio. 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 Molto capiente eh. Ah sì spazioso, molto spazioso. Molto molto capiente. Qua ti rimane la macchina. È qui il vantaggio che ti rimane la macchina. però ha uno sbalzo non indifferente. Questa ha uno sbalzo di quasi un metro. E questa... This is the price for the cabin, ok. Questa è la versione Trail 260S. Ovviamente c'è questo sbalzo da calcolare, però è da tenere in considerazione, perché in 20 minuti in totale autonomia si può scarrare la cellula tirando giù i piedi. Questi sono quelli anteriori, vengono giù. Questi sono quelli posteriori che al momento sono stati usati anche per stabilizzare il mezzo. Nel giro dei 4x4 non può mancare il Gran California. Quattromotion. Ma poi nel giro dei 4x4 volendo... Quattromotion. Questo è un classico. è abbastanza total white. L'HRZ. Questa azienda parte su Mercedes Sprinter. Allestitissimo. allestitissimo. Con la cellula. Questo è il gavone di coda. l'HRZ. Ah, però... bella. un altro sprint. Qui c'è una serie di sprinter, ragazzi, che ve lo raccomando. questo è un altro... bagno e passaggio dal bagno per la cellula. Sì. questo ha il letto basculante. Cioè, sono altissimi. Anche questo, passaggio dal bagno, bagno passante, dinette... Camaleon. Ok, noi i dépliants li prendiamo, non si sa mai. Magari vinciamo una lotteria. Sì, certo. Sperare. Non costano uno. Quello non costano uno. Certo. Presto. Se poi avete veramente, 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 ma veramente tanti, 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 tanti soldi, eccoci qua. C'è V-mobile. V-mobile. Camion. Camion 4x4. Andiamo verso qualcosa di più umano. C'è la moterfadeli, è più umana, non mi sembra. Non mi sembra. Questi non sono umani. Per questo man. Questo qua è 4x4 di Mercedes, sono 160.000 euro così comune. 160.000 euro. Giusto per l'ordine di prezzo, eh? Certo. Questo. Questa è la casa viaggiante. No, questo è più grande. Certo, è ovvio. Anche la massa... Di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Non si può andare qui dentro? Sì. Vedermi uno. Vedermi. Ma se c'è una persona dentro? No. No. Ciao. Ciao. C'è anche un piccolo amico. Un piccolo gavoncino, un piccolo gavoncino con gli impianti, ecco. qui abbiamo le elettroniche, il doccino, filtri per l'acqua, filtri ceramici per l'acqua. Vabbè qua. Bene. E la casa viaggiante, sono per lavoro. Certo. Quanto me lo mette questo qui? Ah, questo solo a 326.000 euro. È bellissimo, è bellissimo. Eccolo. Questi sono mezzi definitivi per viaggiatori, per l'acqua, per l'acqua, per l'acqua. Sì. Per sempre. Per sempre. Sì. Non arriverebbe neanche al gavone, Laura. Mi dovresti prendere quella cosa là dentro. Ah. Ecco i filtri, acqua, dolcino. Questo è un altro montato su daily. E la particolarità è che hanno l'uscita, adesso ve la faccio vedere dall'altra parte. Hanno la... Ma cambiamo la giornata. Ahahah. Hanno praticamente la dinette sull'esterno. Ok. E poi vediamo qualcosa che, di nuovo, somiglia molto al burro. Quindi, di nuovo, pick up. Pick up con... senza il cassone, quindi con montaggio. Anche questa ha la particolarità di avere la coda aperta, quindi la dinette aperta. Questo è l'interno. Beh, sì. Sono molto spazioso queste. Sono molto molto spaziose. Sì. Ecco, e anche questa. Questa è ASCII 230 montata su Ford Ranger. Poi ti rimane così, vedi. Questo si può scarrare. Questo con la macchina. Però poi ti rimane... Costa questo. Questo immagino sia il prezzo, buon cabine ASCII, 45.100 euro. Che comunque è un prezzo accettabile. Sì, della cabine ASCII, del Ford Nuovo, ovviamente. Sì. Questa è la versione base. Queste sono gli optional. Sì. Vabbè, ci sono 20... Su questa versione qua ci sono 15 mila euro di optional. Sì. Questa è la pianta. Questa è anche una cosa molto interessante. Anche questa resta agganciata al telaio tramite questi agganci qui. Viene agganciata al telaio qui. Questo non ha il passaggio tra la cellula e la cabina. Perché in realtà questa resta comunque scarrabile. Ce ne sono di diversi tipi. Per gli appassionati che riconoscono questo marchio, con un'oblismo beer. Ok. Sono tanto su un'oblizetros. Sei per sei. Ve lo portate a casa per 635 mila euro. Qui su questo altro modello c'è anche il portamoto. C'è l'ascensore per la moto. Certo. Non c'entra niente. Ma è il sogno americano. Vuoi non filmarlo? È bellissimo. Livestream. Qui invece abbiamo... Questo è venduto. Peccato. Peccato che hai venduto. L'avremmo comprato. L'avremmo comprato. L'avremmo comprato. Volevamo proprio questo. Ci piaceva anche il colore, ma è venduto. E quindi... E quindi non se ne fa niente. Sei per sei. Drughe Expedition. Questo qui è for sale. È per bello. Ve lo faccio vedere di fuori. Questo. Ok. For sale. 298 mila euro. Era 340 mila. Un po' più vecchio. Expedition Track. 223 mila euro. Ok. 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 E poi amate il lusso. Sempre su Iveco Daily 4x4. Concorde propone questo cruiser. E per soli. Però. 299 mila euro. Vi danno tutto questo. Centurino Style. Concorde. Per spendere molto meno. Tendenza degli ultimi tempi che arriva da altri paesi. Ci sono i carrelli fuoristrada. Carrello fuoristrada. In offerta. In offerta. Prezzo fiera. 38.500. In offerta. Prezzo fiera. 38.500 euro. Ah sì. Cucina. Frigo. Impianti. Abbiamo addirittura le casse per la musica. Frigo a pozzetto. Lavello. Lavello. Tendalino con luci. Facciamo il giro completo eh. Ananasso. Un gavone per riporre le cose. Questo è il retro del carrello. Vuota di scorta. Vieni. Tenda. Veranda. 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 Questo è l'interno della tenda. Il preingresso. Timone. Ripiano per la bombola del gas. Piastre. Invece qui abbiamo. Il pezzo per il bagno. Attenzione. Qui abbiamo anche la bussola. Se ti perdi. La bussola. Tendalino. Questa è l'azienda. Questo 33.500 euro. Allora questo qui. 33.500 euro sconto fiera. Anche questo è il tendalino. Lavello. Tendalino. Sì. Sono solo chiusi ma. Ruote BF Goodrich All Terrain. No. È bloccato così. Tiac. Devi chiudere qua. Tiac. Questo si richiude tutto dentro se stesso. Tanta roba anche questo eh. Con lo stesso prezzo ci comprate un bagno. Boiler. Buona bagno. Boiler. Boiler. Attenzione. Zona bagno. Zona bagno. Attenzione. Con armadio. Spettacolo. Bello. 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 Questo è sempre off-road. Doppio asse. Doppio asse di Ed Woodrich. Questo è gigantesco. Gigantesco. È un altro. Crawler. Sì. Ah, perché hai il letto. Oh. Ah, qui c'è il bagno. Bagno con la doccia. Bagno esterno con la doccia. Esterno interno. Esterno interno. Doppio asse. Attenzione. Quattro BF Woodrich. Questo qua è un altro carrello sempre della Crowler. Sempre di Ed Woodrich. Ah, è piccocina dentro. Questa non va il bagno. Come no? È lì di fronte a te. Ah, non l'ho visto. Ecco la tendina. Ecco qui lì di fronte a te. Questo TRC458. L'azienda è sempre questa, la Crowler. Ok. Questo ha... Sono giganteschi eh, però... Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma si può fare. Non c'è nessuno, ma stanno fuggendo. Però... L'altra azienda. Iron Yak. due posti letto spettacolo questo è un altro due comodi posti letto, libri questa è un'altra azienda che fa cellule per pick up queste hanno di serie un serbatoio d'acqua fresca da 120 litri acqua grigia da 60-65 litri gas, cucina, scaldamento queste si possono montare su qualsiasi pick up? 2.5 sui pick up europei il 2.8 invece è per Dodge Ram ok, versioni americane i cassoni un po' più lunghi resta comunque scarrabile assolutamente scarrabile quindi il veicolo rimane autocarro omologazione autocarro vengono prodotti in Slovenia questo è il prezzo finito dimensioni e prezzo questa è un'altra versione costa un po' meno perché la differenza sta nel peso dei pannelli quindi questa è la light l'altra è la ultralight quindi c'è un 150 kg di differenza nel peso montata su Toyota Toyota Hilux appoggiata sul cassone questo ha l'ingresso posteriore modello box 240 bagno con il lavello quello che viene giù truma combi è un letto di tutto rispetto 3 USB valina impianti tre fuochi tra l'altro tre fuochi con l'aria delle nuove cabine un'altra proposta clever tour 540 4x4 quindi d'un gel dinette solito sedili girevoli e abbiamo vani contro vani bagno bagno con doccia integrata fornello due fuochi siamo già troppi troppi qui ok frigo in testa con apertura doppia figo compressore una parte dall'altra luce questo allora come dicevo preparato d'un gel quindi questo qui tour al rad 70 quasi 75 mila euro ok particolare mano bombola poi giusto per capirci questa è la trasformazione che fa d'un gel sull'asse posteriore questo è l'albero di trasmissione questo parliamo di altri mezzi e qui cambia proprio la tipologia c'è proprio differenza poi diciamo che le piante più o meno sono sempre le stesse questo in più ha il tetto a soffietto questo è un mantigi automatico la ruota da là poi non so come la scarichi e queste sono due tipologie di mezzi questo mezzo soffietto e quello tetto rigido e come dicono alla fine dei cartoni e qui finisce la nostra visita alla prossima bye bye ciao